Dopo un caso poco preoccupante a Sant'Arsenio, il Vallo di Diano torna a registrare zero contagi nella giornata di ieri e il dato di zero casi di coronavirus accomuna anche il Cilento e tutta la provincia di Salerno. Situazione che giorno dopo giorno sembra continuare sempre di più verso la ripresa dall'emergenza. Il Vallo di Diano, prima del caso Sant'Arsenese, non registrava casi dallo scorso 19 aprile, quindi il totale del comprensorio resta sempre sui 150 casi, precisamente 152 con 16 decessi accertati per il Cilento di contagi da covid-19. Fortunatamente non ne vengono certificati da più di una settimana, dal 17 aprile. Un tampone atteso ad Agropoli fatto a scopo precauzionale su un contatto non stretto della paziente oncologica e che non preoccupa. Bilancio invariato con 23 contagi ad Agropoli, compresi 3 decessi e 3 guarigioni, 4 a Vallo della Lucania, 3 a Casalvelino, 2 a Vibonati, 1 a Sessa Cilento, 1 a Laurino, 1 a San Mauro Labruca e 1 a Monte Corice. Zero contagi anche in tutta la provincia di Salerno. Su 715 tamponi esaminati presso gli ospedali di Salerno e Deboli sono risultati tutti negativi.